Harvest, tratto dal romanzo Il raccolto di Jean Grace, è il film con cui Attina Zagari torna qui a Venezia, regista greca che ha tra l'altro come protagonista uno degli attori del momento, ovvero Caleb Laundrie-Jones. È un film strano, particolare, sicuramente un film che sogna, vagheggia un paradiso perduto, perché è ambientato in quello che è un periodo apparentemente indefinito, a metà tra Medioevo, Rinascimento, Ottocento. Siamo in una campagna inglese che è una campagna preindustriale, in cui in un piccolo villaggio si vive in armonia, tutti felici, tutti contenti, si lavora, si sopravvive più che vivere perché le regole della natura sono difficili. Tutto cambia quando arriva un nuovo proprietario, o meglio coproprietario del terreno di tutta la regione e un cartografo che disegnando la regione, quindi trasformando quello che è soltanto un luogo in un nome, in un luogo geografico, fa finire questo sogno, questo idilio. Caleb Laundrie-Jones, che è il personaggio centrale, intorno a cui si muove tutta la storia, vive questa simbiosi con la natura, non sempre convince, a volte è un po' in overacting, secondo me, ma questa è anche una sua caratteristica. Un film, secondo me, che piacerà tantissimo a chi è un po' ancorato a certi ideali, appunto, da paradiso perduto preindustriale, ma che comunque fa riflettere su tanti cambiamenti che stiamo vivendo. E questa è un po' una tendenza che sto notando qui a Venezia. Bella, anche se qui vista in maniera negativa, l'idea che dare il nome alle cose significa crearle, renderle vere, quindi un film quasi nominalista alla nome della rosa, mi verrebbe da dire, naturalmente parlo del libro, non del film, che va visto e che è un film diverso, che non c'era, forse appunto in alcuni momenti non è tutto convincente, però è un film che lascia un segno.